Rosaro, 30 secondi anche meno, in caso di caluta del governo, chi immagini un governo con un nuovo Monti? Sì, io immagino il ritorno di Mario Draghi, cioè un nuovo governo tecnico, con la Troica direttamente in casa per conto di Bruxelles. Lasciatemi solo dare una replica celerrima. No, 10 secondi. 10 secondi, una raccoginata, alto basso. Il Partito Democratico è il partito di rappresentanza dell'alto, ma voglio dire, il Jobsat di Massacro dei Lavoratori chi l'ha fatto? Alla Leopolda c'erano i finanzieri, mica i lavoratori della Fiat Mirafiori, altro che alto basso superato. Allora, fermiamoci Pso per qualche seconda.